Musica 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 bene vedete i pugili già pronti, invitiamo a salire su un po' grado Giovanni Paiusco pugilato a Tristino e Melina Ravisca della boxe, più ovese facciamo un applauso a Giovanni Paiusco, eccolo qua la vediamo al fine della box più ovese, Melina Ravisca Melina Ravisca della boxe, più ovese, match su una distanza dalle tre riprese da due minuti ciascuna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti